Ciao a tutti Leopardi, siamo al Fala Gialdi insieme a coach Tosarelli, coach complimenti innanzitutto per questa gara 1, sul finale siete riusciti a consolidare quel margine di vantaggio che avete preso all'inizio, gara 1 è vostra, allora chiediamo anche a te un commento a questa gara. Sì, è stata una partita dove siamo partiti bene subito, poi dopo un paio di volte ci siamo fatti riprendere, però lì siamo sempre stati bravi a rimanere lucidi, a rimanere con la testa nella partita e a riprendere subito il controllo della partita, poi siamo stati bravi tra fine terzo quarto e inizio quarto quarto a prendere un buon margine che siamo riusciti a mantenere anche alla fine, continuando a muover la palla, a cercare buoni tiri, a prendere falli, a difendere forte e questo ci ha consentito alla fine di vincere la partita. Grazie ancora, allora ci vediamo mercoledì a Tortona e come sempre Leopardi Pride.